Allora, il nostro nuovo ospite qui al Monte Carlo Film Festival è Mario Della Rosa. Ciao Mario, come va? Ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, lo riconoscete perché lui è Suarez, non lui Suarez, anche se you're a big fan of Atletico del Madrid, Colcioneros. Colcioneros, molto, da quando ero molto piccolo. Quindi vieni la Liga? Sì, vieni la Liga e sono molto felice, molto felice di celebrare il titolo. Qui, a Monte Carlo, ho portato il mio t-shirt, il mio t-shirt di Atletico è a Maglia, non? Come si dice? Maglia, Maglia, sì. È a De Rune, lo prenderò oggi, probabilmente, per andare al pool. E noi conosciamo Mario per essere Suarez nella Casa di Carta. Mario, aspettavatevi tutto questo grande successo della Casa di Carta quando è iniziato? No, non è tutto. Non è nessuno, non è nessuno. È qualcosa che è proprio che è stato fatto. Il show era per la Spagna, per il canale spagnolo. È stato proprio iniziato, un progetto nazionale. È stato ok, funziona. È funzionato. È non così grande, ma funziona. È funzionato. È qualcosa di divertire e di orgogliare. Noi, non è possibile che abbiamo visto la suaしゃdetta. E questo è un modo prodotto. È un mondo show right adesso. È ovviamente che ci sono molti ingredienti che rendono così grande. Ma non c'è un equace, perché se hai un'equace, E' un'equazione che tutti ripetano. Quindi cosa posso dire? Iconografia, la masca, la scripta, l'attività, la fotografia, la direzione. All'attività fa questo. Perché il curioso è che è lavorare in Argentina, è lavorare in l'East Bloc, è lavorare in Italia, in Italia, in Finlandia. Quindi possiamo dire, che si accettavano questo dono e mi piacciono. Doi ricordare il momento in cui hai iniziato a realizzare che la Casa di Carta era... Io ricordavo un giorno, stavo filmando Hellboy in Bulgaria, in Sofia. E io ero in un hotel. E, you know, oggi abbiamo questi app, sui telefoni. Instagram è quello che ho usato. e, in un momento, il mio telefono è iniziato a blinkare tutto il tempo. E ho pensato, se stai pensando, se c'è qualcosa di ronare? Se c'è qualcosa di ronare? E ho pensato, perché ho iniziato a ronare molti seguimenti. Perché è stato il giorno che la Casa di Carta, la Casa del Papi, è iniziato a essere a Netflix International. Ah, ok. Quindi è quando, qualcosa è accaduto. e poi, C'è qualcosa che sta succedendo qui, sì. Tu hai lavorato anche in Hollywood con Terminator e Hellboy con David Harbour. Qual è la differenza principale tra lavorare in una produzione spagnola e la Champions League? Penso che la differenza è... È come la Liga... ...monte. E l'argento compra il tempo. Questo è quello che penso, al principio, a la prima volta. Stavo lavorando in Terminator, ok, è una produzione di James Cameron. È stato di più di 100 milioni. Sì. Quindi ho una scena, una scena di action, non è molto lunga, nel cut finale non è ancora in un minuto, ma ci ha fatto 4 giorni per farlo. È stato come... avevano i risultati, ovunque, questo, 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 questo... è stato realizzato, che il investimento può pregiare tempo, può pregiare più persone per lavorare dietro le cameras, per fare più cose, e poi, questo è il risultato nella sala di edizione. Abbiamo tutti questi strumenti per farlo meglio o più e più. Perché, penso che, il talento è tutto, perché, penso che, il talento è in italiani, francesi, spazio, 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 con questi spazio, con un profilo o profit. E, si, si, se, con queste grandi producci, il dinero può comprare il tempo e risultato. La ultima domanda è del Comedì. Ci siamo al Comedì il Comedì il Comedì. Qual è il tuo Comedì? Comedì? Pedro? Sì, mi ricordo la vita di Brian. Ah, Monty Python. Monty Python può essere Monty Python. Sì, ci sono alcuni spagnoli, ci sono alcuni tipici, molto, non lo so, non lo so, c'è un humore che era il primo Torrente. Torrente, ha 5 filmi. Il primo è stato qualcosa di diverso, fa una differenza per noi in Spagna. E, mi ricordo questi filmi di Tom Hanks che ho piaciuto molto. E l'altro con Billy Crystal e Robert De Niro. È un gangster e è un therapist e mi piace questo film anche. E, fine, alla fine dell'intervista l'intervista del l'intervista dell'Europa perché è difficile avere una squadra che hai una squadra molto bene, anche la squadra è molto bene, ma avere una squadra come si gioca e anche è un mood, è un stato di mente. è una squadra erano ed i i i i i i non ho ho credo è stata in spaino, ma magari è in france, portuali, portuali, germani, i top 5 sono questi. La prossima è la rite per la Champions League, l'Atletico. Ho giusto, ho giusto. Ci sono tre finali in la nostra storia. E due against... No, non ricordo il nome. C'era un colore t-shirt. Io ero in Lisboa, in questo stadio. Io ero dietro del gol. E' stato molto doloroso. E' qualcosa che... Probabilmente abbiamo un trauma con questo. E' qualcosa che ho già legato. Io non ero. No, non ero. Grazie Mario. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.